la volta precedente io ho voluto mettervi diciamo di fronte a far aprire gli occhi di fronte un pericolo un pericolo data parte voi sapete che chi segue di voi i messaggi della regina della pace sa bene che in diverse occasioni qui a meggiogorie c'è stato il festival della gioventù la prima settimana di agosto la madonna più di una volta ha messo in guardia i giovani dall'insidio che tende il demonio e dalle false luci che il demonio accende sulla loro strada per sviarli e non c'è dubbio che uno degli insidi più gravi a cui un giovane è esposto a meno in questo nostro mondo occidentale in cui per noi cristiani è obbligatorio in un certo senso andare contro corrente possiamo dire che un giovane appena esce un ragazzo appena esce dalle scuole elementari incomincia a frequentare le medie poi va alle scuole superiori incomincia a indebolirsi fino a spegnersi l'influenza della famiglia e invece incomincia quella colonizzazione ideologica come la chiamate a papà francesco che consiste nell'oscuramento della mente insomma la colonizzazione ideologica è quella è quella diciamo visione della vita che la madonna chiama diciamo così chiama le tenebre e la menzogna della morte la chiama con la visione della vita che è finanziata dalle élite internazionali insomma lo sappiamo benissimo con le élite finanziarie che alimentano la visione dell'uomo come se fosse lui il padrone del mondo e quindi finanziano la religione dell'uomo la madonna in un suo recente messaggio in un modo molto secco ha detto mettete al primo posto dio e non l'uomo la colonizzazione ideologica oggi consiste in questo mettete mette al primo posto l'uomo e confine a dio nel privato come se pronunciare il nome di dio in pubblico fosse una bestemmia voi ragazzi voi giovani di questa colonizzazione ideologica siete colpiti entrando nella scuola superiore ma già nella scuola media dove appunto diciamo così i padroni del mondo vogliono plasmarvi la loro immagine e somiglianza e quindi farvi crescere diciamo così apparentemente colti ma in realtà incapaci di ragionare per conto proprio incapaci di elaborare personalmente una visione della vita incapaci di poi cioè vi illudete di essere liberi in realtà fate quello che vi è stato vi è stato in qualche modo come si dice come quando si ama essere il cane insomma poi il cane certamente fa quello che voi gli avete insegnato però è chiaro che ripete gesti che lui stesso non è elaborato quindi per voi il pericolo è questo uscite magari una famiglia cristiana entrate nella scuola superiore università avete subito il rischio di una colonizzazione ideologica che quella è appunto elaborata dai grandi centri finanziari del mondo che ovviamente si siedono al tavolino del mondo discutono come se loro fossero i padroni del mondo e quindi cosa fate perdete la fede perdete la fede diventate colonie diciamo così i vostri cervelli diventano colonie su cui coltivare qualcosa di ben diverso dal vangelo perdete la fede senza accorgervene vi stilano che la fede è superata che diciamo che presto gli uomini che crederanno in dio compariranno che non è che non è dio che ha creato l'uomo ma è l'uomo che si è inventato dio e via via tutti gli slogan perché vi danno appunto quella visione della vita rispetto alla quale la vita ha nessun senso perché cosa vi propongono riguardo alla vita niente cioè la vita verrebbe per caso finirebbe nel nulla l'uomo che cos'è un animale più sviluppato cioè alla fin fine c'è un degrado della dignità dell'uomo e anche soprattutto c'è una mancanza di interpretazione del senso della vita insomma per cui voi eliminando la fede avete buttato via la chiave di interpretazione della vita per cui sono qui a dirvi state attenti ragazzi coltivate la fede e ricordatevi che quello che avete ricevuto in eredità cioè la fede che avete ricevuto in eredità deve diventare una vostra scelta personale libera e consapevole cioè questo è il punto chiave cioè è chiaro che voi che avete ricevuto il battesimo da bambini avete fatto la prima comunione avete fatto la cresima e quindi avete fatto la confessione siete entrati nella comunità ecclesiale tutto questo che avete ricevuto come un dono deve diventare una vostra scelta personale cioè voi stessi dovete come dice la madonna nel silenzio della vostra anima cercare dio incontrare parlare con dio ascoltare dio diventare amici di dio stringere con dio una una amicizia così profonda così tenace così solida che nessuna bufera della vita potrebbe distruggerla ecco dunque il primo segnamento che abbiamo dato la volta scorsa e cioè la fede è un grande dono che dovete conservare e ricordatevi che diventerà solida in voi nella misura in cui voi stessi attraverso la preghiera attraverso la preghiera che è un contatto con dio e cercando di vivere il cristianesimo perché se non lo vivete non sapete che cosa è che è come quando scusate vi offrono un liquore diciamo se non lo provate non sapete che cos'è così pure il cristianesimo prova a viverlo allora sai che cos'è per cui prima di eliminare la fede prova a viverla prima di mettere Gesù Cristo in soffita prova a sentire la sua parola cerca di conoscere la sua vita guardati in giro per vedere chi chi è meglio di lui che cosa ti offre il mondo meglio di lui e domandati se per caso non sia vivo visto che a volte lo senti sommensamente bussare alla porta del tuo cuore allora invece di buttare via la fede cerca tu di confrontarti con la tua fede di capirla di viverla e prova sperimenta se è una luce o è una illusione allora gli uomini che hanno sperimentato questo che la fede una grande luce sono innumerevoli e lo sono tuttora quindi rifletti bene prima di buttare via un assegno come se fosse un pezzo di carta adesso cari amici oggi vorrei affrontare invece un passo successivo abbiamo visto l'importanza della fede e adesso vediamo cari amici l'importanza di scoprire scoprire la bellezza e la grandezza della vita cioè abbiamo già citato introdotto l'altra volta questo pensiero ma oggi voglio approfondirlo guardate che il fatto di esistere o di non esistere mica una cosa indifferente cioè tu pensa che conte quanti anni hai aggiungi nove mesi fai la sottrazione e cosa ti rimane che prima non esistevi non c'è niente da fare non esistevi adesso esisti pensa che bella differenza che c'è e ti devi devi comunque afferrare questa realtà che vivi che sei vivo che esisti anzi l'altra volta abbiamo detto che sappi che non solo esisti ma esisterai in eterno anzi più di uno ma ha scritto su facebook la frase più l'ha colpito è proprio questa no che tu esisti in eterno perché la tua anima è spirituale immortale beh anche stavolta cari amici se c'è qualche frase che vi colpisce mettetela sulla nostra pagina di facebook voi sapete che c'è il nostro c'è un posto apposta adesso dedicato alla catechesi giovanile dove voi potete scrivere le vostre considerazioni no allora considera il fatto che adesso ci sei ci sei e quindi proprio perché ci sei evidentemente dal fondo del tuo cuore nascono degli interrogativi che sono di fuoco che sono insopprimibili che tutti gli uomini si pongono ma guarda guarda che da quando l'uomo è venuto sulla terra pure quando era uno che magari voi sapete i fumetti degli antenati no all'età della pietro prima ancora però anche loro si chiedevano si interrogavano sul senso della vita e sul senso del bene e del male e questo perché è perché adesso vi spieghiamo il perché insomma quindi il fatto di esistere fa sì che una persona si chieda perché prima non c'ero adesso ci sono chi ha fatto sì che io passassi dal nulla all'essere e poi uno si domanda ma io chi sono io chi sono guardate che è una domanda da poco e non puoi certo rispondermi esibendo la tua casa identità o con il tuo selfie scusa eh io chi sono fatti questa domanda anzi questo è l'interrogativo è il titolo di questa catechesi di oggi io chi sono tu chiediti chi sei anzi chiediti se a questo interrogativo hai dato già qualche risposta ma chiedersi chi sono da dove vengo chi ha fatto sì che passassi dall'essere umano dove vado questi interrogativi di fondo si ripongono tutti gli uomini di tutti i tempi e a questi interrogativi hanno risposto le religioni e le filosofie ma noi che abbiamo la fede diciamo che a questi interrogativi ha risposto in parte la ragione ma nel modo più completo e esauriente ha risposto la parola di Dio cioè Dio stesso ci ha detto chi siamo da dove veniamo e dove andiamo allora cari amici per farvi gustare un po' questo miracolo di esistere vi leggo la prima pagina del libro che seguiremo durante l'anno che è intitolato ragioni per vivere ragioni per credere proprio l'introduzione è intitolata la barchetta della vita ora leggiamola insieme perché è suggestiva questa pagina veramente immagina che la vita incominci con un brusco risveglio nel cuore della notte stai galleggiando su una fragile barchetta sballutata dal vento e dalle onde inutilmente spingi lo sguardo nel buio in cerca di qualcuno o di un qualsiasi orientamento lassù nei cieli sconfinati le stelle ti guardano mute intorno a te un silenzio irreale appena rotto dal mormorio delle acque che si distendono verso gli orizzonti infiniti è il tuo primo impatto con la vita è il primo istante in cui prendi coscienza di esistere constati con stupore che nel buio del nulla si è accesa la luce tenue ma preziosa del tuo essere il tuo io ha incominciato a brillare prima non c'eri ora ci sei quale abissale differenza con la luce che è in te afferri che un evento decisivo è accaduto il tuo ingresso nella vita il bambino il bambino scopre amato al momento scopre con la sua luce interiore amato al momento scopre di esistere e che ha incominciato ad esistere e si guarda intorno per vedere dove mai dove mai è sbocciato il fiore della sua vita esistere non è cosa da poco è tutto prima che tu entrassi nel mondo era come se nulla esistesse come d'incanto sei uscito dagli abissi del non essere e guardi con meraviglia il miracolo della tua esistenza ci sei questo è importante anche se non sei nulla di te stesso ci sei e dal fondo del cuore senti salire uno zampillo di purissima gioia cioè la gioia di essere al mondo che gorgoglia sotto la coltre densa di paure che ti assalgono perché sì esisto ma dove sono cos'è questo oceano infinito che mi sta intorno capito? e ti domandi solo le domande di fondo è forse una maledizione la vita è forse meglio non essere mai nati domani forse ti accadrà di pensarlo in quel momento di oscurità cerca di rituffarti con la memoria nella luce dei primi istanti quando è misurato la distanza incolmabile fra l'essere e il nulla è sperimentato la gioia di galleggiare sul mare sconfinato della creazione cioè anche se la vita fosse diciamo così piena di difficoltà però il fatto di esistere è qualcosa di straordinario sei emerso dagli abissi delle cose che non sono non sei neppure tu come ciò sia avvenuto e stai per iniziare una navigazione piena di incognite attraverso l'oceano dell'esistenza ecco questo è dunque il grande miracolo diciamo così della vita dell'esistenza quando uno scopre il miracolo di esistere a questo punto cari amici uno capisce che il senso della vita la ragione per cui uno vive non può essere quello di mangiare e di dormire o di lavorare cioè uno deve chiedersi ma insomma da dove vengo chi sono dove vado a cosa serve la vita questi interrogativi i ragazzi li mettono presto fra parentesi perché sono presi da una rete delle cose effimere e poi arrivano alla fine della vita ma non sanno a cosa è servita la vita magari l'ha buttata pure via magari l'ha preso una stata sbagliata è fin dall'inizio che uno deve sapere perché vive cosa serve la vita come va vissuta e soprattutto uno deve chiedersi chi è questo è il tema cari amici che dobbiamo affrontare oggi ed è questo che noi ci poniamo nel fondo del nostro cuore e ci chiediamo io chi sono allora guardiamo un po' a questo interrogativo in faccia io chi sono allora tu pensi che eh ma questa domanda qui non l'hai sentita al catechismo non l'hai sentita la domanda però al catechismo ti è stata davanti la risposta senti che tu te ne accorgessi però ricordati bene che man mano che se tu fai le scuole superiori o fai le università stai tranquillo che troverai o gli insegnanti o i libri o i testi o gli autori o gli scrittori che ti presenteranno che ti danno già la risposta confezionata ovviamente eh una risposta confezionata una vera menzogna su questa domanda i fondamentali della vita cioè io chi sono cioè qual è la risposta che ti diranno eh semplice tu sei il tuo corpo capito tu sei ciò che mangi questa è la risposta che è elaborata che ha elaborato diciamo così eh che hanno elaborato i padroni del mondo quelli evidentemente per i quali Dio è mammona il denaro e ovviamente hanno bisogno di identificare l'uomo col suo corpo affinché l'uomo consumi più che può e il donaro si moltiplichi più che può quindi tu stai tranquillo che nel giro di poco tempo entri in un ambiente quello culturale dove alla risposta io chi sono ti diranno tu sei il tuo corpo tu sei ciò che mangi allora io ti dico ti chiedo questo scusa eh secondo te che effetto ti fa questa domanda che effetto ti fa questa risposta alla domanda cioè io chi sono ti dicono tu sei il tuo corpo tu sei ciò che mangi che effetto ti fa questa risposta così a pelle così a pelle ti sembra una risposta seria ti sembra una risposta adeguata tu tu ti identifichi con il tuo corpo guarda che il tuo corpo nel giro di pochi anni cambia tutto perché il nostro corpo tutte le cellule tutte le componenti del nostro corpo nel giro di pochi anni cambiano ma tu non cambi il tuo corpo cresce si sviluppa invecchia ma il tuo spirito man mano che il corpo deperisce il tuo spirito cresce cioè è immediata la percezione che noi non siamo il nostro corpo difatti io dico io ho un corpo ma quando tu dici io ho un corpo chi è quell'io chi è quell'io che cos'è quell'io io ho un corpo capito tu hai un corpo cioè il corpo è una cosa il corpo è un oggetto non è un soggetto non è un io allora già questa risposta per cui ti danno a intendere che tu sei il tuo corpo non è una risposta che non rispecchia la percezione che tu hai di te stesso insomma perché il tuo corpo potrebbe essere anche ammalato potrebbe essere anche diciamo così affetto da handicap eppure la tua intelligenza potrebbe essere sempre più luminosa la tua bontà è sempre più grande la tua capacità di amare può estendersi nonostante magari che hai mal di cuore hai mal di cuore capito però cresci nella capacità di amare e questo per dire che questa risposta per cui uno identifica se stesso col suo corpo è perlomeno diciamo così è ridicola ma comunque sia non rispetta la realtà che uno di noi ha allora cerchiamo di andare avanti e rispondiamo a questo interrogativo io chi sono? Beh certamente ognuno di noi ha un corpo detto fra parentesi il corpo umano è un capolavoro di una bellezza incomparabile noi sappiamo benissimo che la grande arte classica quella classica inventata dai greci dai romani poi quella successiva del rinascimento ha evidenziato la bellezza del corpo umano che è una bellezza tutta spirituale cioè il corpo umano emana luce cioè questa è la intuizione meravigliosa di Leonardo da Vinci perché il sorriso dalla gioconda tutti lo vogliono vedere tutti vanno all'ouvre a vedere il sorriso della gioconda e secondo voi per quale motivo perché Leonardo ha capito una cosa molto semplice che il corpo umano è luce il corpo umano è luce ed è luce spirituale per cui nel sorriso della gioconda si esprime l'anima d'altra parte guarda per esempio il volto di un bambino pieno di luce guarda anche il volto rugato di madre Teresa che esprime bontà e compassione guarda tanti volti in cui il sorriso emanano luce cioè tu solo guardando il corpo umano ti rendi conto che non è proprio una cosa si è una cosa è un oggetto che a un momento muore invecchia e muore però ti rendi conto che è animato che ha dentro un principio spirituale e Gesù l'ha evidenziato in una parabola quando ha parlato dell'occhio ha detto l'occhio dell'uomo è una luce che illumina tutto il corpo per cui se il tuo occhio è limpido tutto il corpo è limpido difatti tu guardi lo sguardo di una persona che è pura di cuore uno sguardo luminoso che illumina tutto il suo corpo ma se l'occhio è torvo è opaco tutto il suo corpo diviene opaco perché mi faccio queste riflessioni prima di tutto per dire che il corpo umano è un capolavoro insuperabile ma noi dovremmo studiarlo chi studia il corpo umano alla fine non può che dire che Dio esiste perché capolavori del genere un capolavoro tale solo uno studia l'occhio come funziona molto più infinitamente più compresso della macchina fotografica rimane stordito di fronte a tanta a tanta sapienza che si esprime nell'opera della creazione dunque è un corpo è un corpo che però voglio dire attenzione è un corpo che non è una cosa è parte di una persona parte di qualcosa che è inafferrabile un corpo che è spirituale il corpo umano è spirituale c'è una differenza guardate c'è una differenza straordinaria fra il corpo di un animale per quanto un animale possa essere bello è un corpo umano cioè il corpo umano esprime una luce una bellezza che esprime la luce e la bellezza della soggettività dell'io spirituale questo è una premessa per fare un passo più intimo più interiore e qui veramente passiamo un confine che la cultura di oggi ha abolito quella della differenza fra il regno animale e il regno dell'uomo voi sapete che oggi la teoria evoluzionistica atea materialistica della sua versione atea materialistica ha abbattuto l'abisso che c'è fra il regno animale e il regno umano per cui il regno animale il regno umano sembra la continuazione del regno animale in quanto l'uomo sarebbe un animale più sviluppato no? sì l'uomo è un animale più sviluppato poi ti ti tranquillo che sui giornaloni di oggi ti tranquillo che ti fanno vedere come anche lo scimpanze quasi quasi allatte i suoi bambini poi quale conclusioni ne tragano lo sai benissimo che al tutto sommato vedi perché lo scimpanze però se avessi il cervello un po' più sviluppato anche lui capito farebbe le cose degli uomini cioè come se lo scimpanze dicesse l'avemaria se avessi il cervello più sviluppato scemenza del genere non sono scienza crevetemi sono scemenza allora andiamo a vedere andiamo a guardare dentro noi stessi scusa io chi sono giusto? il cane si fa questa domanda e lo scimpanzee si fa questa domanda no non se la fa non si chiede chi è e perché non si chiede chi è? perché non è il pensiero non ha l'intelligenza non ha la luce dell'intelligenza spirituale attenzione parlo di intelligenza spirituale non di istinto materiale dunque dunque il vero passaggio dal regno animale all'uomo è proprio il pensiero il pensiero il pensiero spirituale quel pensiero per cui tu ti chiedi chi sei ma nel medesimo tempo ti chiedi chi ti ha fatto chi ti ha messo al mondo ti chiedi vai al di là di tutte le cause prossime e ti chiedi chi è la causa ultima ma chi ha fatto questo mondo per quanto sia vato l'universo tu lo abbracci col tuo pensiero vai oltre l'universo e ti chiedi ma chi è colui che ha fatto questo bellissimo universo dove si vede la sua potenza la sua sapienza e il suo amore caro amico l'uomo ha una intelligenza che si interroga ha un pensiero che ragiona ha una luce interiore ma guarda che questa qui questa luce interiore dell'intelligenza non si identifica con la cultura sai perché un bambino piccolo un bambino che ha 4-5 anni ragiona e come si ragiona pensa si può anche perché metafisici si chiede ma chi è Dio chi ha fatto Dio allora chi cioè si chiede si chiede si interroga quindi non è legato alla cultura non è legato a ciò che si apprende è una capacità interiore che abbiamo è un principio spirituale che noi abbiamo per cui diciamo così un po' di ragione dobbiamo dare a quel filosofo che diceva l'uomo è ciò che pensa è una fermazione l'uomo è una canna pensante diceva Cartesio la canna sarebbe il corpo però il pensiero rende grande l'uomo certo è una definizione dell'uomo molto migliore di quella di Feuerbach che diceva che l'uomo è ciò che mangia allora tu hai un'intelligenza che si interroga ma si interroga sulle cause ultime delle cose per cui noi con la nostra intelligenza possiamo passare ragionando sul mondo possiamo arrivare alla causa prima del mondo che è Dio con la luce della ragione umana possiamo dimostrare l'esistenza di Dio poi oltre alla luce dell'intelligenza su cui si potrebbe parlare lunghissima a lungo però tu guarda dentro di te e scopri che hai una capacità di decidere sei libero figliolo caro sei libero tu sei libero di decidere e poi decidere anche contro corrente e poi decidere anche contro i tuoi istinti contro le tue passioni contro le tue fami tu hai la capacità di disporrevi te stesso di dire faccio questa cosa non faccio questa cosa hai la capacità di dire scelgo questa via non scelgo questa via e andare contro corrente cioè tu hai la capacità di disporrevi te stesso a seconda di ciò che conosci e di come decidi non sei guidato dall'istinto sei guidato dalla ragione e fai le scelte secondo la tua libertà tant'è vero che tu se scegli la via del male e vieni giudicato e vieni messo in galera e si uccide una persona ma se un leone uccide una persona lo viene messo in galera e non viene anche giudicato perché non ha la libera volontà sono cose elementari ma che oggi sono state cancellate con lo slogan l'uomo e il suo corpo no no c'è un principio spirituale che è in te che non dipende dalla materia per cui scusa la materia non ti spinge a mangiare certo che ti spinge a mangiare ma io decido di digiunare e decidendo di digiunare io affermo la signoria della mia volontà sul mio corpo perché invece questo principio spirituale di libera scelta posso decidere così un cane non decide di digiunare a me che non stia male che gli fa male lo stomaco ma sono decidi di mangiare sempre perché quello è il suo istinto quindi abbiamo questa grazia immensa della libera volontà io decido di me stesso decido della mia vita faccio le mie scelte e fate bene ragazzi a tenerci a fare le vostre scelte e a ragionarci sopra perché Dio ci ha creati i liberi certo la libertà è a doppio taglio la puoi usare per costruire te stesso la puoi usare per digiunare te stesso puoi usare la tua libertà per studiare puoi usarla per drogarti se studi ti fai una strada se ti droghi vai all'inferno cioè all'inferno qui su questa terra poi dentro di noi io dico stiamo domandando chi sei dentro di noi abbiamo un codice di moralità c'è niente da fare tutti gli uomini sanno che uccidere è umane poi ovviamente poi ci sono le abitudini i pregiudizi ci sono le oscurità del male del peccato che offusca la mente ma in noi c'è un radar per cui io so che c'è un bene e c'è un male so che desiderare la donna ad altri è un male rispettare tutta una serie di cose mi rubare so che rubare è un male eccetera so che fate bene una persona aiutarla la male è un bene c'è in noi un codice di moralità scusate secondo voi nei cani c'è questo codice di moralità voi dite ma poverini sono così buoni sì eccetto quando mangiano le persone anche i loro padroni perché perché loro rubiscono l'istinto non hanno un codice di moralità dentro c'erai tu un codice di moralità per cui se tu fai il male senti il rimosso della coscienza e se fai il bene senti la coscienza che ti approva allora cari amici come vedete in noi c'è ci sono dei principi spirituali irriducibili alla materia c'è un io che è il depositario che è il nostro io è un io che pensa un io che decide liberamente un io che ha un codice morale per cui distingue il bene e il male e poi abbiamo un io che ha una grande capacità di amare va andando oltre l'egoismo mettendo la propria vita a servizio degli altri per cui tu vedrai delle persone che invece vivono egoisticamente e usano le persone per sé ci sono delle persone che invece vivono altruisticamente e mettono la loro vita a servizio degli altri questo tu non puoi trovare non troverai mai una serpe che mette la sua vita a servizio degli altri è così il mondo animale vive nell'istinto il mondo umano vive nel pensiero nella libertà nella moralità e questo perché perché in te c'è un principio spirituale che già gli antichi ma non soltanto gli antichi europei gli antichi dell'India dell'induismo delle regioni africane di quelle americane questo principio è chiamato anima che già il grande Platone 500 anni prima di Cristo ha detto che è un'anima spirituale e immortale dunque concludendo questa prima parte del nostro discorso diciamo così da dove ti predicano che l'uomo viene dalla materia la materia torna o sapete qual è il versetto biblico più citato dei giornaloni dei soloni è questo ricordati uomo che sei polvere in polvere ritornerai citano sempre questa frase per dire che siamo polvere ma non dicono quello che dice la Bibbia prima è ciò che nella polvere Dio ha soffiato il suo spirito immortale per cui ragazzi andiamo alla conclusione di questa prima parte che è importante tu sei tu non sei il tuo corpo tu sei una persona dotata di un'anima che pensa che è libera che decide che è capace di amare che è fa una cosa sola se c'è anima cioè si unisce al corpo formando la realtà del tuo io della tua persona tu sei una persona composta di anima e di corpo e ma come faccio a dire che c'è l'anima figlio allo caro non è mica così difficile tu hai un'anima perché sei capace di pensare sei capace di decidere hai una una distinzione fra il bene e il male sei capace di amare ciò che il mondo animale non è capace di fare in te c'è questo principio divino guarda quando nasce un bambino è concepito il corpo viene dai genitori ma l'anima la crea direttamente Dio per cui si può ben dire che tu sei un figlio di Dio sul piano naturale Dio ti ha creato e ti ha creato a sua immagine e somiglianza perché a sua immagine e somiglianza perché hai il pensiero perché hai la moralità perché hai la libertà tutto ciò riflette l'immagine divina perciò questo sì che è un vero corso di autostima se ti dicono che sei un animale io non so quale stima puoi avere di te stesso è inutile che ti mandano dei psicologi perché tu abbia accresca la tua autostima tu pensa che sei immagine di Dio che Dio ti ha fatto a sua immagine e somiglianza che ti ha fatto unico che ti ha creato in grandissima dignità capace di parlare con Lui capaci di amarlo e di essere riamato capaci di stringere una grande amicizia con Lui quindi pensa alla grandezza di ciò che sei e quale responsabilità hai perché abbiamo visto la volta precedente che la fede è un grande dono oggi abbiamo diciamo che la vita è un grande dono perciò vorrei dirti ma ringrazia Dio che ti ha creato in così grande dignità che ti ha messo al vertice della creazione che ti ha dato il dono della vita certo ti ha messo in mezzo al mare devi navigare figlioli caro devi navigare e devi renderti conto di ciò che ti aspetta nel futuro della tua vita e quindi dovrai porti le domande che vengono dopo e cioè devi porti l'interrogativo importantissimo dove sto andando cioè se vogliamo in termini più semplici sì la vita è un grande dono ma cosa serve come l'hai imposto come faccio sì che un domani non abbia a trovarmi sulla stata sbagliata o non abbia a trovarmi diciamo così sperduto e per cui poi faccio come tanti fanno pensano di spegnere la vita con un gesto inconsulto non sapendo che nella sua infinita bontà Dio dà sempre la possibilità a tutti di riprendere la strada giusta e la navigazione giusta ogni volta che hanno sbagliato la strada per cui al tema di questa prima parte della catechesi vorrei ragazzi questa sera farvi cioè farvi una proposta cioè fate una preghiera di questo genere signore ma io non sapevo che era così importante esistere non sapevo che io ho un'anima spirituale immortale non sapevo che tu mi avevi creato in così grande dignità non sapevo che tu avevi messo il timbro il tuo timbro sulla mia vita hai messo il sigillo il tuo sigillo nella mia vita non sapevo che era così importante di essere figlio di Dio signore mi ha sempre detto che era un animale uno più sviluppato mi ha sempre detto che la vita serve per per godersela ma poi alla fine signore cosa vuol dire godersi la vita mi fanno lavorare da mattina a sera mi fanno mi fanno fare fino a 75 anni poi mi dicono andare in pensione poi siccome peso troppo mi fanno l'eutanasia ma signore è questa la vita questa è la vita made made fatta cioè il timbro del diavolo quella è la vita del diavolo ma la vita dei figli di Dio è qualcosa di diverso è una grande avventura è una grande avventura durante la quale noi cooperiamo l'opera di Dio che è poi quella di far sì che tutte le creature si rivestano dalla sua gloria e che tutti gli uomini arrivino al traguardo ovvero della vita che è la felicità ragazzi pensate voi come si può essere felici se siamo degradati a livello degli animali è una menzogna dalla quale dobbiamo liberarci la vita è una missione di padre Livio edizioni su Garco grazie a tutti